O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Madre di misericordia, prega per noi. Nel primo mistero glorioso, contempliamo la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Rallegrati Maria, Gesù tuo Figlio è risorto, come aveva predetto. Preghiamo per quanti non sanno dare un senso alla loro vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in dentazione, ma liberaci al male. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazi, tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservarci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi, nel secondo mistero glorioso, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Rallegrati, Maria, Gesù, tuo figlio, e accanto a Dio, suo padre, per preparare a noi un posto. Preghiamo per quanti non riescono a credere nella vita eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, per rimettere a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in redentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù. del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è come te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di misericordia, prega per noi, nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo, su Maria Santissima e gli Apostoli. Rallegrati Maria, lo Spirito d'amore manda noi a portare la buona novella ai poveri. Preghiamo per essere noi i veri testimoni del Vangelo e per tutti quelli che ascolteranno la nostra parola. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri depitori, e non ci indurre in tendazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta esciutta del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta esciutta del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta esciutta del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta esciutta del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta fra le donne, benedetta è il tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta esciutta del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Il Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi, peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte 今 Ave Maria, piena di grazie Il Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi, peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciuto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciuto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inverno, porta in gelo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre di misericordia, prega per noi. Nel quarto mistero glorioso, contempliamo la morte e l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Rallegrati, Maria, tu hai trovato, grazie, presso Dio, beata te che hai creduto. Preghiamo per quando cercano, per quando dubitano, per quando sono tendati dalla disperazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non c'è in giù in rendazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e usciutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e asciutta del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e asciutta del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli, Amen O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inverno, porta in gelo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia Maria, Madre di Misericordia, prega per noi Nel quinto mistero glorioso, contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina degli Angeli e di tutti i Santi Rallegra di Maria, lo Spirito d'amore raccoglie in una sola famiglia tutti i popoli della terra Preghiamo per chiedere la pace nelle famiglie, nelle comunità e tra tutti i popoli Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri depitori E non ci indurre in nendazione, ma liberaci dal male, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e asciutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e asciutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e asciutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e asciutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e asciutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli, Amen O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inverno Porta in gelo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia Salve Regina, Madre Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve A te ricorriamo, esso i figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente, in questa valle di lacrime Orso, dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi E mostracci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno O clemente, o pia, o dolce vergine Maria Signore, pietà Signore, pietà Cristo, pietà Cristo, pietà Signore, pietà Signore, pietà Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici Padre, celeste, Dio Abbi, pietà di noi Figlio, redentore del mondo Abbi, pietà di noi Spirito Santo Abbi, pietà di noi Santa Trinità Prega per noi Santa Maria Prega per noi Santa Maria, Madre del Dio Prega per noi Santa Vergine delle Vergine Prega per noi Madre di Cristo Prega per noi Madre della Chiesa Prega per noi Madre della Divina Grazia Prega per noi Madre Purissima Prega per noi Madre Castissima Prega per noi Madre della Divina Grazia Prega per noi Madre inviolata Prega per noi Madre intemerata Prega per noi Madre amabile Prega per noi Madre ammirabile Prega per noi Madre del Buon Consiglio Prega per noi Madre del Creatore Prega per noi Madre del Salvatore Prega per noi Vergine Prudentissima Prega per noi Vergine piena di fede, prega per noi. Specchio di santità, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa nostra letizia, prega per noi. Vaso spirituale, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina del Sacratissimo Rosario, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdona il suo Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto e asciutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Madre dell'Elemosina, che sin dall'eternità fossi predestinata ad essere la Madre del Verbo, con quella pienezza di grazia che ti donò il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, per farne partecipi tutti gli uomini, che si piedi della croce e fosti dichiarata Madre di tutti i fedeli, rappresentati dal diretto discepolo. Degnati di rivolgere a noi le tue materne attenzioni, di esaudire le nostre suppliche e di accettare i nostri omaggi. Potentissima ed amorosissima Madre, assistici in tutti i pericoli, soccorrici in tutte le necessità, specialmente nella presente epidemia infettiva, e difendici da tutti gli assalti del nemico. In quell'ora estrema ottienici da Dio quegli aiuti efficaci, che sono necessari per finire santamente i nostri giorni, per poi goderti, benedirti e glorificarti in cielo per tutta l'eternità. Amen. Maria, Madre dell'Elemosina, prega per noi, il Signore ci benedica e ci contuca alla vita eterna. Amen. Amen.